Siamo alla giornata centrale della 59esima edizione della mostra mercato del cavallo della murgia e dell'asino di Martina Franca, un appuntamento di attrazione nazionale dove si riuniscono i migliori selezionatori di razza e genetisti che hanno trasformato un cavallo rozzo e potente, un tempo solo destinato al lavoro nei campi, in un esemplare elegante che però conserva le sue caratteristiche di robustezza e resistenza. Questa è una delle tante sfilate dei migliori esemplari in mostra, tutti selezionati ed iscritti nello specifico albero genealogico. Questa attività di selezione e allevamento è diventata per la Puglia un fiore all'occhiello nazionale, una vera e propria risorsa. Giovanni Cappiello, direttore dell'Associazione Regionale Allevatori. È una risorsa su cui la Regione Puglia deve puntare, risorsa che deve in questa maniera con un'organizzazione adeguata e una riorganizzazione anche a livello operativo, deve consentire affinché questa risorsa diventi una vera e propria ricchezza per la nostra Regione e per i nostri allevatori. In questa occasione celebriamo una partecipazione eccezionale quest'anno. Abbiamo oltre 200 cavalli, abbiamo anche la rappresentanza degli asini, abbiamo il meglio della razza del Murgese.